Se i minori di 14 anni si battono per lavorare alla Paz, in Bolivia, 150 ragazzini si sono scontrati con la polizia dopo aver cercato di occupare la piazza antistante il Parlamento, i giovani protestavano contro il disegno di legge che vieta il lavoro al di sotto dei 14 anni, una misura che i manifestanti ritengono discriminatoria.